Poi c'è il mio amico Antonio che ora è calmissimo, ora è calmo, tutti dicono che è lui, non fa niente, lui da quando si è sposato con Carolina, ha due bambini meravigliosi e un'altra persona, cioè lui gioca a padle e corre e sta zitto, è nazionale, vi dico chi è lui, 2004 agli europei, io dicevo a Trappoltoni, Trapp, mister, mettimi con Totti davanti e lui lo mettiamo nell'altra squadra, così non la ciappa mai rosica, diventa pazzo, allora stiamo giocando, uno gli fa un mezzo fallo, ma non era fallo, era incazzato come una bevva perché non toccava mai la palla, dice fallo, il partito ero fuori, sempre fuori dai coglioni, ero sempre in panchina, no devi dire quello che è successo quando poi dopo la partita, la prima particola da animare, la presentazione è più lunga della storia questa, L'introduzione della storia dei teatri Comunque, gli ha fatto un fallo, non gli ha fischietto il fallo, è andato via, alla struttura è andato via, ciao, e lui, ma dove vai? Ciao, ma dove stai andando? Ciao, andate a fare in culo, ciao Comunque è calmissimo, non posso scherzare perché chiama me